Cambiolo il Circolo di Castelvecchio mantiene la tradizione, il 26 concerto di Natale con una novità, ahimè purtroppo, perché è dedicato a Franca Rambaldi che non c'è più ma che è sempre con noi. Anche nello spirito di questo concerto natalizio che ritorna a Castelvecchio, un classico. Sì, effettivamente il 26 dicembre alle 15.30 nella parrocchia di Castelvecchio si terrà la 27esima edizione, ormai è la 27esima edizione di questo concerto di Natale, in collaborazione appunto con la parrocchia di Castelvecchio e con il comune di Imperia. Come dicevi tu, la novità di quest'anno purtroppo triste è che è un concerto che è un memorial, è un ricordo di Franca Rambaldi. Franca ci ha aiutato tantissimo come Circolo e quando noi ci siamo costituiti nel 1990 la prima manifestazione che noi abbiamo messo su è stato proprio questo concerto. Questo grazie a Franca che era nella corale San Maurizio che per vent'anni ci ha portato la corale San Maurizio a cantare a questo concerto e poi ci ha aiutato tantissime altre volte con consigli e con la sua opera. Quindi noi gli dobbiamo tanto a Franca Rambaldi, a parte io personalmente, ma tutto il Circolo Castelvecchio gli deve tantissimo e quindi vogliamo ricordarla con questo concerto. Un concerto che avrà sempre, come sempre, dei nomi importanti, c'è il basso Alfredo Zanazzo, la mezzosoprano Claudia Giribaldi, la corale di San Maurizio, la scuola Lucchino Belmonti, ingresso libero, insomma un modo per continuare la festa di Natale possiamo dire. Sì, tutti questi artisti che si esibiscono non sono a caso perché Franca era la presidente della corale San Maurizio, era la presidente della scuola di musica Lucchino Belmonti e insieme a Alfredo Zanazzo hanno trascorso 30 anni. Sono cresciuti insieme, praticamente erano grandissimi amici e devo dire che Alfredo si è offerto lui di venire a rendere omaggio a Franca in questo concerto. Quindi sono tutti i nomi che hanno a che fare con Franca Rambaldi. Io spero che si trascorra veramente un pomeriggio in serenità. Vi ricordo martedì 26 dicembre alle ore 15.30 nella parrocchia di Castelvecchio. Grazie.